Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del Tg6 in apertura la cronaca giudiziaria. Ieri la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne ai quattro imputati per il crollo della casa dello studente dell'Aquila nella notte del terremoto del Seat. La casa dello studente dell'Aquila era un castello di carte, un edificio pericoloso ad altissimo rischio crollo in caso di terremoto, come poi fatalmente avvenuto la notte del 6 aprile 2009, causando la tragica morte di otto studenti. E nessuno dei professionisti avvicendati a restaurare l'edificio costruito nel 1965 ha predisposto interventi di consolidamento necessari, agito per garantire la sicurezza di chi ci viveva. Questi in sintesi le motivazioni della sezione penale della Suprema Corte che ha confermato ieri sera a Roma in via definitiva le quattro condanne a quattro anni di carcere per Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Berardino Pace, tecnici del restauro alla struttura eseguito nel 2000, e a due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, tecnico dell'Azù e presidente della commissione di collaudo. I reati sono quelli di omicidio colposo, disastro e lesioni. Alla lettura della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante Rocco Blaiotta, scene di commozione soprattutto tra i familiari delle vittime presenti in aula e fra gli avvocati di parte civile. Ma la sentenza ha colto di sorpresa anche quanti erano convinti che le tesi della difesa potessero avere successo. Le difese infatti avevano chiesto, tra le altre cose, di dichiarare il reato estinto per prescrizione dal momento che, secondo loro, i termini sarebbero scattati da quando sono avvenuti i lavori contestati nelle accuse, quindi dal 2000. Passaggio decisivo alla relazione del giudice Daniele Cenci, che ha citato ancora una volta ampi stralci della relazione tecnica del perito del GUP, la professoressa Gabriella Mulas. Il terremoto del 6 aprile, ribadito Cenci, non poteva da solo costituire la causa del crollo, determinato invece anche dalle gravi deficienze strutturali e da plurimi elementi di appesantimento dopo i vari interventi di ristrutturazione. Inoltre gli edifici intorno non a caso sono rimasti in piedi. E, aggiunto Cenci, sarebbe stato sufficiente leggere anche solo la prima pagina del progetto del 1965 per capire che l'edificio, così come era progettato, non poteva garantire la sicurezza. Toccanti al termine dell'udienza le parole di Lilli Centofanti, che nel crollo ha perso il fratello Davide. Non è morta andando in guerra, non è questa l'università, è morto facendo il suo dovere e non è giusto. E ha aggiunto Anna Maria Cialente, mamma di Francesco Esposito, altra vittima. I nostri ragazzi non ci sono più, il dolore rimarrà tutta la vita, non c'è somma che ce li riporterà a casa, ma almeno hanno avuto giustizia, ha detto asciugandosi le lacrime. Fosse comuni dove venivano gettati suini morti e quasi 20.000 metri cubi di reflui che sarebbero bastati a riempire 50 piscine olimpioniche. La forestale ha sequestrato un allevamento intensivo di suini a Capitignano, in provincia di L'Aquila, che gestiva illegalmente tutta la filiera dei prodotti. L'impianto zootecnico aveva una potenzialità di gestione di 4.500 suini e operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali. Degli accertamenti si sono occupati i nuclei specializzati nei settori della corretta gestione dei rifiuti e del benessere animale. Sono stati denunciati un cinquantenne residente in provincia di Caserta, in qualità di amministratore unico della società agricola, e un 71 anni aquilano in qualità di socio conduttore dell'allevamento in questione. Inoltre, durante il controllo dei registri dell'allevamento, è emerso come una parte degli animali sia stata destinata alla produzione di salumi per prestigiose etichette del Nord Italia. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Corpo Forestale dello Stato. Oggi, al Tribunale dell'Aquila, interrogatori per il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara Giovanni Imparato e per il commercialista Paolo Lavalle, arrestati martedì scorso per un presunto giro di mazzette proprio all'Agenzia delle Entrate. Vediamo. Guardi, fino a quando non si leggono tutte le carte nella loro inderezza, farsi idee sarebbe il più grosso errore che ci può essere sulla faccia della terra. Così Antonio Di Michele, avvocato difensore di Giovanni Imparato, capo del settore legale e di fatto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, arrestato il 10 maggio, ora ai domiciliari, per un presunto passaggio di mazzette finalizzata ad ammorbidire un contenzioso fiscale e che oggi è stato ascoltato nel Tribunale dell'Aquila dal PM della Direzione Distrettuale Antimafia, David Mancini. Attesa per oggi anche l'interrogatorio dell'altro inquisito arrestato, il commercialista di formia Paolo Lavalle, consulente tributario della società Cross Città Mercato. L'attività investigativa ha interessato l'operato di Imparato, nei suoi vestiti funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nei riguardi della Cross Città Mercato, società gravata da un pesante contenzioso tributario, da ben 38 milioni di euro. In particolare, nella mattinata del 19 aprile scorso, le Fiamme Gialle e Pescaresi hanno filmato a Roma un incontro tra i due indagati, immortalando la consegna al pubblico funzionario da parte del commercialista Lavalle di una busta contenente 15 mila euro. Una mazzetta, secondo l'accusa pagata per pilotare... Adesso restiamo all'Aquila, ma ci spostiamo in regione giornata decisiva per la riduzione dei costi della politica. In Commissione Bilancio approdano ben tre proposte di legge, due a firma dei 5 Stelle, una dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Arrivano oggi in prima Commissione Bilancio della Regione ben tre proposte di legge che prevedono la riduzione di vitalizie e indennità ed anche, addirittura, la cancellazione secca del doppio vitalizio per consiglieri ed ex-consiglieri. Due progetti di legge sono a firma del Movimento 5 Stelle e la terza, più soft, a firma dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle propone, con un primo PDL presentato da mesi, la drastica riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali e la riduzione dei vitalizi ancora in essere, che costano ai contribuenti, 4,2 milioni di euro l'anno. Con una seconda proposta ispirata da una legge già approvata nella Toscana, il Movimento 5 Stelle prevede poi addirittura la cancellazione tucur del doppio vitalizio per chi è sia ex-consigliere che ex-parlamentare. No, non è un diritto acquisito e in più ci sembra giusto che chi gode di doppio vitalizio, ovvero perché ha lavorato in differenti sedi istituzionali, scelga il vitalizio che preferisce. Non vedo motivi per un'accumulabilità che tra l'altro sulle pensioni non c'è. La nostra proposta per il dimezzamento dello stipendio prevede che ci sia una decurtazione consistente, in realtà non si tratta di un vero e proprio dimezzamento tucur, ma comunque sia la realtà che poi il netto sarà la metà di quello che attualmente prendiamo. Crediamo che probabilmente non sarà accolta dal Consiglio regionale perché è una proposta che sostanzialmente penalizza un po' tutti. Questo però è un passo fondamentale per quello che riguarda l'equità sociale. Più miti invece la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sostenuta da maggioranza di centro-sinistra e opposizione di centro-destra e che propone la riduzione del 10% di tutti i vitalizi per un periodo di tre anni a titolo di contribuzione alla grave crisi economica, con una maggiorazione del taglio fino al 50% per coloro che godono anche di un doppio vitalizio. La crisi al comune di Teramo riserva. Altri colpi di scena dopo le dimissioni dell'assessore Giorgio Di Giovanni Giacomo di al centro per Teramo, ieri nella serata Futuro In, la civica capitanata da Polo Gatti, con un comunicato annunciato le dimissioni dei suoi quattro assessori all'interno della giunta guidata dal sindaco Brucchi, hanno rimesso le deleghe nelle mani del primo cittadino Piero Romanelli, Rudy Di Stefano, Francesca Lucantoni ed Eva Guardiani, lasciando vacanti gli scranni della pubblica istruzione, delle manutenzioni del patrimonio, della cultura e delle finanze. Deleghe pesanti per una mossa sorpresa, volta a passare il cerino della crisi nelle mani del sindaco, riaprendo il discorso legato alla verifica di giunta. Dunque giunta dimezzata, mentre gli assessori di NCD hanno confermato al sindaco di essere disponibili a continuare a svolgere l'attività amministrativa, accettando ulteriori deleghe. La scelta di Futuro In ha incassato l'appoggio di al centro per Teramo, che aveva aperto la crisi di maggioranza, mentre il sindaco per il momento ha scelto la via del silenzio. Questo pomeriggio alle 16 è stato convocato il Consiglio Comunale, che ratificherà la cittadinanza onoraria, scusate per Marco Pannella, Consiglio che potrebbe trasformarsi in un confronto acceso proprio su quanto sta accadendo in queste ore all'interno della giunta Brucchi. Cambiamo argomento. A Cappescara, studenti e professori in piazza per protestare e dire no ai test invalsi e a chiedere una nuova didattica. Paolo Lorenzetti. Oggi c'è questa raccolta di firme, questo banchetto in piazza Salotto a Pescara, boigottiamo i test invalsi. Perché? La lotta contro l'invalsi è parte di questa lotta per affermare questo tipo di scuola, una scuola che non sia discriminante, una scuola che sia unificante, che non divida i buoni dai cattivi, ma che lotti e che si spenda, quindi nell'insieme, affinché sia una scuola nell'insieme di qualità. Perché non può esserci una scuola buona e una scuola cattiva. Deve esserci una scuola buona e una scuola che deve diventare buona. E quindi noi oggi siamo in piazza per protestare contro i quiz invalsi, ma per protestare contro la logica di dividere le scuole tra buone e cattive. Se noi riteniamo che i quiz invalsi, appunto li chiamiamo quiz o indovinelli, perché non hanno nessuna base didattica, sono molto arbitrari, presumono di essere uguali quando le classi sono differenti, i programmi sono differenti e quindi riteniamo che debbono essere non solo boicottati. Perciò siamo oggi, come insegnanti, come corpo docente, in piazza a scioperare. Oggi noi studenti siamo in piazza, assieme agli studenti di tutta Italia, per boicottare i test invalsi. Li boicotteremo sia all'interno delle scuole, lasciando il test in bianco, che in questa manifestazione proveremo a trovare delle alternative a questo modello, di didattica e valutazione che non riteniamo più adatto, perché siamo stanchi di essere classificati e messi in competizione da una valutazione numerica e riteniamo che serve una valutazione narrativa e come questo riteniamo non più adatto anche l'attuale modello di didattica frontale. Inoltre siamo qui in piazza anche contro l'atteggiamento repressivo di molti dirigenti scolastici, in primis quello del Misticoni Bellisario, dove sono stati sospesi oltre 150 studenti e anche al Volta dove sono stati minacciati di ritorsione gli studenti che avrebbero boicottati i test invalsi. Siamo qui anche per sostenere i referendum sociali contro le tre principali riforme antidemocratiche del governo Ranzi. Oltre mille pensionati abruzzesi saranno il 19 di maggio a Roma per chiedere più risorse per l'invecchiamento della popolazione. Giovanni Orsini, Will regionale, quali sono i motivi di questa manifestazione del 19 maggio a Roma? Noi pensionati abbiamo una cosa da rivendicare, i nostri diritti e la nostra dignità. Questo governo la calpesta, la calpestate e si guiderà a calpestarla. Vedete quello che sta succedendo sulla riforma della legge Monti-Fornero? Tutti quanti dicono che la vogliono cambiare e nessuno la cambia. Purtroppo per voi giovani, per i giovani, sarà dura perché non avranno né un futuro lavorativo ma nemmeno un futuro previdenziale. Quindi noi lavoriamo per questo e andiamo in piazza circa 1.100-1.200 pensionati d'Abruzzo, 23-24 pullman per rivendicare queste cose. 360.000 circa pensionati che ci sono nella nostra regione, dell'Inps possiamo dire che l'80% sono pensione al minimo, per non parlare quelle anche al di sotto, gli assegni sociali e quant'altro. Quindi noi nella manifestazione vogliamo ribadire la necessità di un intervento forte per rimettere al centro il problema della dignità dei lavoratori pensionati e dei pensionati perché questa crisi, tra le cose che ha prodotto, ha prodotto un grande impoverimento e un grande disagio sociale a cui bisogna dare rimedio. E' importante questa manifestazione unitaria perché ci permette di poter riprendere un dialogo forte non solo tra di noi ma soprattutto nelle parti sociali con il governo affinché il governo decida finalmente di ascoltarci e di trattare e di riprendere un tavolo di trattative che noi in questi ultimi mesi non abbiamo avuto. Della legge Fornero deve essere cambiata, non è più possibile pensare che si vale in pensione a 70 anni e i nostri giovani saranno sempre disoccupati se le pensioni continuano ad essere così alte. Le associazioni ambientaliste contestano sono una legge regionale che consente attività cinofile e cinotecniche all'interno del parco Velino-Sirente e di altre riserve naturali andando così a disturbare le specie protette. C'è una legge regionale che permette oggi gare cinofile, addestramento di cani all'interno di parchi e di aree protette. Voi oggi protestate e chiedete alla regione un passo indietro. Sì, questa legge arreca notevole disturbo alla fauna in un periodo, diciamo, durante quei mesi che sono esclusi dal calendario venatorio, quindi c'è un disturbo, diciamo, perenne alla fauna e per quello che riguarda la fauna protetta, in particolare l'orso marsicano, questo disturbo si andrebbe a verificare in quelle aree come le riserve regionali, il parco regionale Sirente e Velino che sono indicate come aree di espansione della specie. La specie sta gradualmente ricolonizzando i territori storici e attraverso questo processo di ricolonizzazione noi riponiamo le speranze per la sopravvivenza dell'orso marsicano, quindi una regione che si fregge dell'orso come simbolo e poi di fatto lavora contro l'orso e contro il patom, che è un piano d'azione che prevede la tutela dell'orso e soprattutto di queste aree periferiche ma anche vitali proprio per la specie. È una legge del poco incivile che è un emendamento infilato di soppiatto in una legge che parlava di tutt'altro e che è totalmente incompatibile con tutte le norme sia nazionali, sia regionali, sia europee che riguardano la tutela dell'area protetta e della fauna in particolare. Crea un disturbo assolutamente insostenibile, un danno diretto di distruzione della riproduzione di molti animali tutelati a livello europeo per cui l'Italia ha un preciso obbligo comunitario di tutelarli e di evitare ogni forma di disturbo a questi animali. Se questo non è disturbo, io vorrei chiedere alla regione che cos'è il disturbo allora. Restiamo a parlare di ambiente. Allarme della Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali per i Boschi d'Abruzzo completamente abbandonati dicono per una cronica mancanza di programmazione del settore con tutto quello che ciò comporta a livello ambientale ed economico. Se si applicassero correttamente i principi della gestione forestale sostenibile, proseguono, si potrebbe calcolare un potenziale prelievo legnoso di un milione di metri cubi annui. Si tratta di quella riserva boschiva che può essere prelevata senza danni alle foreste, anzi aiutandole a rigenerarsi. In Abruzzo oltre il 70% della proprietà boschiva e pubblica, quindi comuni montani con una gestione oculata conterebbero sul ricavo di circa 21 milioni di euro. E adesso andiamo a Teramo dove gli infermieri scenderanno in piazza per la giornata internazionale a loro dedicata. La figura dell'infermiere e la sua evoluzione negli anni e questo è il focus della giornata internazionale dell'infermiere, indetta per oggi 12 maggio in onore di Florence Nightingale, nata a Firenze il 12 maggio del 1820, meglio nota come la signora con la lanterna, è considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica e la prima a proporre un'organizzazione degli ospedali da campo. A Teramo la giornata internazionale verrà celebrata domenica in piazza Martiri con il collegio provinciale Ipasvi affiancato da altre associazioni come la Fidas che incontrerà i cittadini per promuovere l'educazione sanitaria. Ci sarà una onlus di clown Zupiru che promuoverà appunto un sorriso per i bambini, loro sono spesso in prima linea in quelle che sono le unità operative di pediatria e quindi per apportare un sorriso ai bambini ricoverati. Ci sarà un'associazione di dietisti che quindi promuoverà anche quello che è un po' la forma fisica e quindi la tutela dell'alimentazione di una sana e corretta alimentazione. Ci sarà l'Aios che è l'associazione di infermieri per la stomaterapia e ci saremo noi infermieri dove daremo delle brochure informative e dove anche daremo risposte inerenti a quella che è l'educazione sanitaria anche attraverso la rilevazione dei parametri vitali. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Partiamo dalle designazioni arbitrali per la 41esima giornata del campionato di Serie B. Modena Pescara è stata affidata a Fabrizio Pasqua di Tivoli, Virtus Lanciano Ternana a Renzo Candussio di Cervignano del Friuli. Ieri lavoro differenziato per l'attaccante delle Pescara Gianluca Lapadula. sono rientrati in gruppo Cocco e Cappelluzzo. A Modena sarà ancora chiamato a dirigere le operazioni il centrocampista uruguayano Lucas Torreira tra più in forma del momento. Giocatore che andiamo ad ascoltare. Ho partito quasi dall'era nostra e quando ho visto Mitrita ha preso la palla sono andato subito in profondità e mi ha dato la palla. Dopo sono rimasto lì davanti al portiere e prima ho pensato a metterla a fare un tiro al giro e a metterla contro un palo ma dopo mi è rimasto quello è andato benissimo. Il playoff è stato il miglior momento dell'anno penso che quelle 4-5 partite che ho fatto benissimo mi hanno spinto tanto e quest'anno ho cominciato non diciamo molto bene dopo ho passato un paio di partite in banchina ho avuto l'infortunio e adesso penso che sta andando benissimo. Adesso abbiamo come ti ho detto prima due partite molto difficili contro due squadre che hanno bisogno di punti ma il nostro obiettivo è andare a vincere a tutti i campi della Serie B poi se non si può vincere trovare anche un pareggio è molto importante il nostro obiettivo come è stato dall'inizio è andare in Serie A non abbiamo potuto andare direttamente dai primi due ma adesso stiamo lì e speriamo di arrivare al terzo posto così saltiamo il primo turno e abbiamo un po' di tempo da riposare perché è stato un campionato molto lungo. Il mio cartellino è di La Sampdoria ma solo penso al presente il mio presente è dare tutto per il Pescara per la gente di Pescara che mi ha accolto benissimo in questi tre anni e niente solo voglio andare in Serie A e dopo si vedrà che succederà la prossima. La restituzione dei punti ha rigenerato e rinnovato l'entusiasmo in casa della Virtus Lanciano ma per completare la rimonta salvezza è necessario continuare a fare i punti a tal proposito la gara contro la Ternana di dopodomani sarà fondamentale non può essere sottovalutata. Cancellare le ultime due sconfitte soprattutto cancellare l'approccio alla partita simile a quella avuto due sabati fa al Biondi contro l'Avellino la Virtus Lanciano si è rimessa in carreggiata dopo la restituzione di tre punti sentenziata dalla Corte Federale d'Appello ma non basta ora al resto dovrà provvedere la squadra di Maragliulo che non deve commettere però l'errore di pensare che i tre punti di sabato sono automaticamente in cascina basta pensare anche a quelli che sono i precedenti tra le due squadre dal 2006 ad oggi abbondano i pareggi ben 11 a fronte di appena due vittorie a testa in Serie B l'unico successo Frentano risale al 2014 0-1 al Liberati con una rete di Mammarella al Biondi invece l'ultima vittoria risale al novembre 2008 in prima divisione quando la Virtus Lanciano di Eusebio Di Francesco ebbe la meglio sulle fere con due reti segnate dopo il novantesimo da Bolic e Colussi a Lanciano nelle tre partite giocate in cadetteria negli anni scorsi è sempre finita con lo stesso punteggio 1-1 ma alla Virtus servono i tre punti e non serve neanche considerare come alla squadra di Breda mancheranno due pezzi da 90 come l'ex Vitale e il fantasista Falletti regali non se ne fanno nessuno li ha fatti finora in queste ultime giornate di campionato il tecnico Breda quasi certamente dovrà rinunciare all'infortunato Zanon probabili Valient a sinistra Santa Croce a destra col rientro al centro di Meccariello davanti Sicuri Furlan e Ceravolo da verificare l'altro ex Grossi e Coppola che non sono al top sul fronte Virtus si è allenato l'attaccante Marilungo che stringerà i denti per essere della partita a sostegno di Ferrari mancherà Aquilanti per l'infortunio alla coscia rimediato domenica scorsa tornerà a Menta che farà coppia con Rigione squalificato Bacinovic Maragliuro dovrà decidere se dare ancora fiducia ad un Vitale apparso appannato nelle ultime uscite o lanciare per la prima volta come titolare Giandonato i tre punti sono d'obbligo per ipotecare la salvezza o addirittura centrarla in caso di una serie di risultati dagli altri campi particolarmente favorevole e ancora con Andrea Costantini scendiamo in Lega Pro mentre l'Aquila prepara il doppio confronto play-out con il Rimini in casa Teramo si pensa al futuro ma prima bisogna risolvere la questione sulla permanenza o meno del tecnico Vincenzo Vivarini lungo ma interlocutorio l'incontro di ieri Momenti diversi per Teramo e l'Aquila se i biancorossi possono pensare al futuro l'Aquila prepara il play-out che vale la stagione a Teramo la vicenda delle ultime ore è quella legata alla permanenza o meno del tecnico Vincenzo Vivarini ieri l'incontro tra le parti la presenza del procuratore dell'allenatore Libertazzi del DG Scacchioli e del DS Inpectore Lupo un faccia a faccia lungo ma non risolutivo le parti si riaggiorniranno nelle prossime ore sul piatto diversi nodi da un lato la gestione tecnica ed un'intesa da trovare tra l'allenatore Diari e il nuovo direttore sportivo sulle strategie future nell'allestimento dell'organico dall'altro la questione economica con l'ultimo anno di contratto di Vivarini che la società vuole spalmare su due anni prolungando così l'accordo col tecnico fino al 2018 la sensazione è che questi due nodi non siano facilmente superabili e che il ciclo tecnico legato a Vivarini possa essersi esaurito ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e ulteriori previsioni difficile farne intanto su Vivarini c'è l'interesse del Matera mentre Fulvio Pea resta in pole position per un'eventuale successione l'Aquila ha ancora una decina di giorni per preparare il play-out d'andata del Fattori contro il Rimini del prossimo 21 maggio dopo domani i rosso-blu effettueranno un test contro la Berretti il tecnico Carlo Perrone deve fare i conti con le assenze praticamente certe del difensore Sanni e del centrocampista Bulevardi che salteranno il play-out al pari di San Domenico fuori per squalifica a meno che non vada a buon fine il ricorso presentato dallo stesso calciatore nel caso tornerebbe per il return match di Rimini c'è molta fiducia circa la disponibilità di Pesoli e Maccarrone se così fosse sarebbe ipotizzabile anche la difesa 3 con i due giganti ad agire ai fianchi di Cosentini proseguono il lavoro differenziato gli attaccanti Perne e De Sousa ma salvo complicazioni anche loro saranno disponibili per il play-out d'andata E adesso parliamo di ciclismo perché oggi arriva in Abruzzo la carovana rosa a Roccaraso nella tappa che da ponte dopo 157 km porta nel comune della provincia dell'Aquila è il primo vero test in salita per i corridori del Giro d'Italia che dovranno affrontare due importanti salite l'ultima delle quali proprio in Abruzzo con una ascesa finale Gran Premio della Montagna di seconda categoria di 17 km con pendenza media del 4,8% e nella parte più ripida con una punta del 12% dunque tappa impegnativa per scalatori mentre domani si correrà la tappa che da Sulmona porta a Foligno e c'è entusiasmo attesa nella città dell'Aquila dove passeranno i corridori del Giro d'Italia Gianmarco Menga Venerdì 13 maggio l'Aquila si tinge di rosa per il passaggio della settima tappa del Giro d'Italia 2016 la corsa prenderà il via da Sulmona per giungere a Foligno i corridori scaleranno le volte di Popoli attraverseranno poi la piana di Navelli e arriveranno all'Aquila percorrendo la Bazzanese attraversato il cuore della città la carovana proseguirà lungo la strada statale 17 quindi il passaggio da Coppito poi Vigliano Sella di Corno la discesa verso Antrodoco Rieti Terni raggiungendo infine Spoleto e Foligno in particolare il percorso di gara nel territorio del comune dell'Aquila comprenderà la strada statale 17 lato San Gregorio via Girolamo da Vicenza il circuito di Collemaggio viale della Crocetta via Mneto Cencioni via Panella viale della Croce Rossa via Le Corrado Quarto e la strada statale ancora 17 stavolta direzione Rieti considerando che l'ingresso nel territorio comunale della Corsa è previsto per le ore 13.15 circa l'interdizione alla circolazione delle strade interessate andrà dalle ore 11 alle ore 14.30 il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha annunciato per l'appunto che venerdì resteranno chiuse le scuole di ogni ordine grado per motivi di ordine pubblico commentando poi il passaggio del Giro d'Italia all'Aquila quella di venerdì spiega il sindaco sarà una bellissima giornata di feste di colore nel nome dello sport e del sano agonismo già dalle ore 9.30 nel parco Polzinelli di fronte alla Questura in attesa del passaggio della Corsa prenderanno il via una serie di iniziative che vedranno l'esibizione della banda della scuola media Patini e degli sbandieratori del gruppo storico Città dell'Aquila invito pertanto conclude il sindaco sia i ragazzi che le loro famiglie a partecipare numerosi e a salutare tutti insieme i protagonisti di questa bellissima avventura che è il Giro d'Italia e dunque quale occasione migliore questa sera per non perdere l'appuntamento con Velo ovviamente ci saranno le immagini e le interviste per quanto riguarda l'arrivo della tappa a Roccaraso ma soprattutto in studio ospite di Jacopo Forcella Danilo Di Luca l'ex ciclista parlerà del suo libro Bestie da Vittoria che già suscita polemiche nel mondo delle due ruote è stato presentato il libro solo qualche giorno fa dunque appuntamento alle 21 in diretta dagli studi di TV6 con la trasmissione ideata da Luciano Rabottini e come detto condotta da Jacopo Forcella è tutto per questa prima edizione del TG6 io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie per aver guardato il nostro canale vi auguro una buona giornata grazie per aver guardato il nostro canale